A qui Salute Magazine, oggi parliamo di mastoplastica addittiva e della scelta delle protesi da utilizzare per questo tipo di intervento insieme al dottor Antonio Cella, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Dottore, ci spiega come avviene la scelta delle protesi? Buongiorno, la scelta delle protesi oggi è determinante, negli anni sono state utilizzate diversi tipi di protesi oggi si preferisce utilizzare un tipo di protesi innovativo, fino a qualche anno fa andavano molto di moda le protesi anatomiche perché erano in grado di dare dei risultati naturali, queste protesi anatomiche però avevano la caratteristica di avere una superficie ruvida a loro esterno in maniera tale che una volta posizionate nella tasca creata dal chirurgo in qualche modo non ruotassero. I risultati evidentemente erano molto belli ma purtroppo, diciamo così, in qualche modo queste protesi risultavano molto fissi e aderenti. Negli anni poi si è visto che queste protesi potevano anche causare dei problemi di tipo infiammatorio e allora negli ultimi anni sono state in qualche modo create delle nuove protesi che secondo me troveranno un grosso spazio nel futuro che invece hanno una forma rotonda e hanno una superficie apparentemente liscia, in realtà è nanotesturizzata ovvero ha una sorta di ruvidità che è praticamente impercettibile e questa caratteristica fa sì che queste protesi in qualche modo siano dinamiche, cioè si muovano insieme alla nostra paziente e al loro interno presentano un gel che io definisco intelligente, che viene definito ergonomico, che ha la caratteristica proprio di disporsi nel tempo, nelle porzioni più basse della protesi e questo dà un risultato paragonabile a quello delle anatomiche. Perfetto, grazie dottor Cella. Grazie.